Ciao amici, questa mattina ho scoperto che oggi è la giornata internazionale della pasta e allora ho deciso di celebrare subito, senza aspettare pranzo, e mi sono fatta una fantastica pasta a colazione perché chi mi conosce lo sa, io adoro la colazione salata e oggi voglio esagerare è una pasta senza glutine, come piace a me volevo celebrare con una ricetta tutta mediterranea, quindi è una pasta molto semplice ma saporita con pomodorini, olive taggiasche, un pizzico di origano e delle noci, una spolverata di noci il pomodorino dà il sapore acidulo, le olive danno il sapore salato e le noci danno corposità e quel pizzico di materia grassa che fa tanto bene, grassi buoni ovviamente per correggere l'eventuale acidità dei pomodorini si può mettere un pizzico di zucchero di canna mentre li si salta in padella o addirittura dei pezzettini di datteri detto questo, buona giornata mondiale della pasta a tutti eh sì, inizio bene la mia giornata buonissima sapete cosa vi dico? ci vorrebbero più giornate mondiali della pasta all'anno una al mese andrebbe benissimo io mi finisco la mia pasta, buona giornata, buona colazione anche a voi e il vostro cappuccino e brioche mi dispiace, non vi capisco ciao brillano gli occhi grazie 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 grazie